Coalizione di centrodestra spaccata in due, proprio così negli ultimi tempi non si fa che parlare della testa a testa tra, e scusate il gioco di parole, Guerino Testa del nuovo centrodestra e Luigi Albore Mascia. Le amministrative 2014 verranno probabilmente ricordate così, come un braccio di ferro tra gruppi endogeni, al centrodestra il contendere per la candidatura per il titolo di sindaco di Pescara. Proprio ieri abbiamo assistito ad una dichiarazione forte del senatore del nuovo centrodestra Federica Chiavaroli. Se la coalizione non accetterà di rimettersi alle primarie per la scelta del candidato sindaco, allora procederemo da soli. Parole che ufficializzano malumori, malcelati delle ultime settimane. E allora, visto che tutto ruota intorno a lui, il candidato scelto Mascia, alla luce delle contese e delle dichiarazioni di discordia, come vede i rapporti di coalizione e le polemiche in corso? Credo tanto di aggregare intorno a me due forze molto importanti, oltre quella di Forza Italia, che è una forza nazionale, che è una forza accreditata nei sondaggi di una percentuale che oscilla tra il 20 e il 22%. Pescara Futura, che è una forza storica, che ormai ha 20 anni, che si è consolidata, che nelle ultime elezioni ha ottenuto una percentuale elevata del 13%, ma soprattutto ha dato amministratori eccellenti alla città di Pescara a partire dal vice sindaco Fiorilli. L'altra forza è quella di Fratelli d'Italia, alleanza nazionale, quindi una destra che si è ricostituita, che si è ricompattata e che diventa altro elemento di punta di queste elezioni. Continua anche la corsa in solitaria del presidente della provincia Testa, che fino alla scorsa settimana si diceva ottimista sulla valutazione del ricorso alle primarie dei famosi tavoli romani. Tavoli che non sono mai arrivati all'incontro, rimandando volta dopo volta per un conclusivo nulla di fatto. C'è questa divergenza con il nuovo centrodestra, c'è ormai da alcune settimane, è una divergenza di natura politica, non umana, perché lo ribadisco e lo ribadisce anche il presidente della provincia Testa, il legame umano con il presidente Guerino Testa c'è e io sono convinto che una soluzione a questa vicenda verrà trovata. Infine un'osservazione sulla coalizione opposta, dice il sindaco Marsha, tanta attenzione per i malumori del centrodestra ma ben guardare. Si parla molto del centrodestra, si parla poco invece delle divisioni della coalizione di centrosinistra, divisioni all'interno del PD che esprime ben tre candidati, divisioni all'interno della coalizione che presenta altri concorrenti e anche elementi di spicco della società civile.